Allora Corazzina, si raccolgono punti pesanti in questa sfida e l'Accademia a questo punto si può dire che c'è? Sì, abbiamo fatto una buona partita dopo la sconfitta di venerdì, ci voleva per rialzare un po' il morale e abbiamo dimostrato per l'ennesima volta che siamo una squadra tosta e l'importante è che vogliamo giocarcela con tutti, sia in casa che fuori casa. Abbiamo chiuso un buon girone di andata e siamo lì, ridosso delle prime, nella parte alta della classifica. In un certo senso il tuo compagno di squadra, che è stato anche l'uomo che ha aperto le marcature di questa vittoria, Venturiello, venerdì sera, nonostante proprio la sconfitta, aveva in un certo senso un po' predetto questa vittoria e ha detto addirittura che 28 punti per l'Accademia alla fine di un girone di andata sarebbero stati oltre la soddisfazione massima. Sì, siamo molto soddisfatti, inutile nasconderlo, ci eravamo prefissati di migliorare l'anno scorso, la classifica dell'anno scorso, per adesso le giorni di andata abbiamo mantenuto le promesse che ci eravamo fatti. Siamo contenti. Adesso Nutri si tenta a nascondere, ma naturalmente si resta con i piedi per terra conoscendovi un po'. Ma c'è da avere paura di questa Accademia? Paura no, se far paura significa vincere le partite, ben venga, insomma. Noi ce la giochiamo con tutti, siamo contenti perché eravamo rimasti un po' delusi dalla sconfitta di venerdì e ci voleva questa vittoria, su un campo difficilissimo, una squadra attrezzata per la vittoria del campionato. Grazie. 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 Grazie.